Il primo appuntamento è stato con gli esponenti SVP. Lorenzo Sola, segretario provinciale della CGL, insieme ad Alfred Ebner, ha rincontrato i parlamentari della Stella Alpina nella sede del partito di Via Brennero. A fare gli onori di casa l'onorevole Siegfried Brugger insieme ad Oscar Peterlini. La CGL ha esposto le ragioni dello sciopero del 6 settembre contro la manovra economica del governo. Un provvedimento hanno ribadito i vertici della CGL che anche in provincia di Bolzano colpirà indiscriminatamente sia i lavoratori dipendenti sia i pensionati. La manovra, ha detto Sola, graverà soprattutto sulle pensioni e sulla pressione fiscale. A subire le conseguenze saranno inoltre i dipendenti del pubblico impiego e coloro che lavorano nel sociale. La CGL ha ricordato che la manovra, così come è stata presentata, prevede inoltre tagli anche alle detrazioni fiscali per le spese mediche. Grazie esattamente.